CGL soddisfatta, CISL contraria al decreto legge approvato dal governo che abolisce i voucher. Per ora, se il Parlamento approverà, salteranno i due referendum voluti dalla CGL. I sindacati hanno proclamato lo sciopero del personale ATM per il prossimo 5 aprile. Le previsioni dicono che sarà un'agitazione con ampia adesione. Lunedì prossimo stoppa il 40% dei voli di Alitalia per uno sciopero dei controllori di volo. Non combazzano le tre versioni fornite dai testimoni della vicenda del ristoratore Lodigiano, che ha ucciso un ladro durante un furto. Bisogna approfondire i fatti, dice il procuratore capo di Lodi. Migliaia di volantini con la situazione occupazionale in Lombardia e una lettera indirizzata a Papa Francesco. Questa è l'iniziativa della CGL presentata in occasione della visita nel capologo Lombardo del Pontefice, fissata il 25 marzo. Buonasera dal TGN, benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. Lo avete sentito dai titoli. Esulta la CGL, contraria alla Cisla, al decreto legge che è stato approvato oggi dal governo. Decreto legge che abolisce i voucher. L'esecutivo ha anche modificato la legge sugli appalti. In questo modo, se il Parlamento approverà, salteranno i due referendum proprio voluti dalla CGL. Ce ne parla Alberto Carreras. Confermate le previsioni della vigilia. Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge per l'abolizione dei voucher. Il governo ha inserito nel testo anche le nuove norme sugli appalti per recuperare il principio di solidarietà tra committente e appaltatore, in modo da disinnescare anche il secondo quesito referendario che era stato posto dalla CGL. I voucher sono i buoni lavoro, da 10 euro lordi, 7 euro e mezzo netti, che servono per pagare le prestazioni accessorie, che negli ultimi tempi hanno registrato un'enorme e incontrollata espansione. A Milano e provincia ne hanno usufruito quasi 130.000 persone. Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha sottolineato che i voucher già acquistati potranno essere utilizzati sino al 31 dicembre di quest'anno. Adesso si aprirà la discussione parlamentare che dovrà terminare con l'approvazione del provvedimento. I voucher avevano un senso se erano riportati fuori dalla logica delle imprese, dove sono serviti per mascherare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando i voucher, ma hanno invece una logica positiva se rimangono in dotazione alle famiglie per i piccoli lavoretti, per pagare chi viene a tagliare il giardino, per pagare una abadante. Da questo punto di vista condannare le famiglie alla burocrazia di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato significa che le persone prenderanno in nero questi lavori. Questo addio del governo ai voucher ve lo aspettavate? Sicuramente no, però cerchiamo di vedere il percorso se arriva fino in fondo. Esiste la possibilità che tutto questo sia stato fatto per evitare il referendum? Sicuramente può essere. In ogni caso, qualora si arrivasse a quello che viene dichiarato, cioè l'abolizione dei voucher, una vittoria della CGL che ha messo in campo anche delle proposte. Il Parlamento ha una proposta di legge sul lavoro occasionale e parallelamente la si può approvare in modo tale che non si lascia nessun ambito scoperto. Abbiamo già detto in queste ore che ovviamente questo è un primo successo. Detto questo continuiamo la campagna elettorale. Sarà la consulta, cioè la Corte Costituzionale, a dire l'ultima parola. Cioè se la legge o le leggi corrispondono al quesito referendario. Rimaniamo in ambito sindacale perché le trattative sono sfumate e i sindacati tutti d'accordo hanno proclamato lo sciopero del personale dell'ATM per il prossimo 5 aprile quando quindi si preannunciano grandi disagi a Milano. E nell'Inter, secondo le previsioni, sarà un'agitazione infatti che otterrà ampia adesione al servizio. I vari incontri, l'ultimo ieri in prefettura, hanno dato esito negativo. Dunque i sindacati in modo unitario hanno proclamato sciopero del personale dell'ATM per mercoledì 5 aprile. All'incontro di ieri non era presente il Comune di Milano. Numerosi temi sul tappeto, ma primo tra tutti il cosiddetto spacchettamento dei servizi del sistema della mobilità milanese. Annunciati 4 ore di totale stop ai trasporti cittadini e secondo i rappresentanti sindacali sarà un'agitazione che avrà grande partecipazione. Peccato che non c'era nel Comune. E la Prefettura ha ritenuto di non invitare il Comune perché era una questione politica. E intanto per questione politica i cittadini ne restano a piedi. I politici che oggi stanno governando Milano, il sindaco, Sala e tutti quanti, gli altri stanno concordando con altre forze finanziarie di spacchettare l'ATM e dividersi tutto quello che vogliono. Da una parte Sala Sosta, da una parte la metropolitana, da una parte gli autobus e dando un servizio alla città che noi siamo molto preoccupati e non dare garanzia ai lavoratori, un servizio scadente. Ecco, questo è quello che verrà, un servizio scadente. Sì, quello è il problema principale contro il quale noi chiediamo un intervento diretto del Comune. Noi vogliamo una gara unica, garantisce meglio il servizio e garantisce meglio i lavoratori e le condizioni dei lavoratori. Ad oggi vediamo e assistiamo a dei tagli delle linee di superficie, i tempi di attesa dei mezzi sono già in vigore, ci preoccupa molto questa situazione. L'autotrasporto milanese si immobilita aderendo alla manifestazione nazionale che è stata indetta per sabato 18 marzo, domani da una trassa alla quale partecipano le imprese di Fai Conf Trasporto, la federazione di settore aderente a Conf Commercio. I TIR raggiungeranno Piazzale Lotto, nel percorso toccheranno Via Le Certose e Piazza Firenze con destinazione Corso Sempione presso la sede della RAI, e la manifestazione organizzata dalle associazioni provinciali di settore. Le lunedì prossimo ci sarà lo stop al 40% dei voli nazionali e internazionali di Alitalia, cancellati per un'agitazione di alcune sigle sindacali dei controllori di volo dalle ore 13 alle 17 per uno sciopero proclamato dalla sigla sindacale CUB Trasporti per gli aeroporti di Milano, anche il sindacato USB, per intera giornata del 20 marzo, a eccezione delle fasce garantite 7.10 e 18.21 del comparto aereo. Alitalia è stata pertanto costretta a cancellare il 40% dei voli programmati per il 20 marzo, sia nazionali sia internazionali. La compagnia ha attivato un piano straordinario per ripropeggere sui primi voli disponibili, possibilmente in giornata, il maggior numero di passeggeri coinvolti nelle cancellazioni. Il 20 marzo la compagnia informa inoltre che impiegherà su alcune rotte domestiche e internazionali aerei più capienti per facilitare la riprotezione dei passeggeri. Negli aeroporti di Roma Fiumicilo e Milano Linate la compagnia ha previsto un rafforzamento nel proprio personale per assicurare la massima assistenza ai clienti. È stato anche incrementato il numero degli addetti ai call center. La cronaca ha tre versioni che non combaciano nella vicenda del ristoratore che ha ucciso un ladro durante un furto nell'odiciano, quelle di Mario Cattaneo che ha ucciso appunto il ladro nella sua osteria, del figlio e della moglie ascoltati separatamente proprio per chiarire gli aspetti della ricostruzione data dall'oste che non convincono gli inquirenti. Alcune contraddizioni continuano a permanere, dice il procuratore capo di Lodi, chiaro. C'è la necessità di approfondire i fatti con la massima precisione, spiega, di chiarire una discreta quantità di contraddizioni. Dobbiamo capire, continua il magistrato, come sono andate effettivamente le cose senza perdere di vista il faccio che Cattaneo inizialmente è stato vittima della situazione. Non c'è alcuna volontà di fare di lui un colpevole, dice il procuratore, ma bisogna far sapere alle persone che dicono se succede a me io sparo a tutti che esistono dei limiti dettati dalla legge e vanno rispettati, conclude il procuratore capo di Lodi, Domenico Chiaro. Queste immagini del oste che ha sparato al ladro. Primo giorno agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Varese per Nicola Scoppetta, il primario del pronto soccorso di Saronno accusato di favoreggiamento personale è omessa denuncia per i fatti accaduti all'ospedale dal 2014 al 2015 quando il medico, secondo l'accusa, coprì i casi di morti in corsia di cui si era macchiato l'anestesista Leonardo Cazzaniga in concorso con la sua amante, l'infermiera Laura Taroni. La procura di Busto Assizio ha sempre considerato Scoppetta fortemente coinvolto nella vicenda e ne aveva chiesto l'arresto già dallo scorso novembre. Ma il GIP aveva inizialmente rigettato questa richiesta, i PM Fontana e Ria avevano fatto ricorso al Tribunale del Riesame dopo la decisione della Cassazione che ha respinto il ricorso della difesa tre giorni fa, il provvedimento cautelare è divenuto esecutivo ed è stato eseguito oggi all'alba dai carabinieri di Varese. A seguito degli arresti del 29 novembre 2016, il primario a cui era stata notificata l'informazione di garanzia per gli stessi reati fu trasferito di incarico, confluendo nella direzione dell'azienda ospedaliera di Busto Assizio con funzioni amministrative. Migliaia di volantini che ricordano la situazione occupazionale a Milano e Lombardia e una lettera indirizzata a Papa Francesco sono le iniziative della CGL presentate in occasione della visita che il Pontefice effettuerà nel capologo Lombardo e a Monza il 25 marzo prossimo. Vediamo. Grande attesa per la visita del Papa a Milano, sabato 25 marzo, anche la CGL della Lombardia si mobilita. L'annuncio è stato dato oggi. Il segretario generale Elena Lattuada ha scritto una lettera al Papa Francesco nella quale parla dei tanti problemi che sta vivendo il mondo del lavoro. Disoccupazione, licenziamenti, precarietà riguardano da vicino anche la nostra regione e la CGL si rivolge al Pontefice che, come è noto, sempre più spesso nei suoi discorsi dimostra una sensibilità non comune nel ribadire come solo l'attività lavorativa consenta all'uomo di avere la giusta dignità. Viene portata ad esempio l'azienda K-Flex della provincia di Monza che ha deciso di licenziare 187 lavoratori di 14 nazionalità differenti. La CGL durante la visita del Papa effettuerà numerosi volantinaggi nei luoghi toccati da Papa Francesco. Anche due giorni fa il Papa ha espresso delle grandi parole sul tema del lavoro parlando peraltro di colleghi vostri, cioè della situazione di Sky, ma parlando anche di operai. Quindi noi abbiamo pensato di accogliere il Papa Francesco a Milano e a Monza con una sorta di lettera di benvenuto in cui riprendiamo i contenuti della dignità del lavoro e volantineremo nei luoghi dove ovviamente anche qui molto rispettosi del fatto che i fedeli vogliono ascoltare giustamente la parola di Papa Francesco, ma ci siamo permessi proprio per le cose che in questi anni noi abbiamo fatto, per la difesa che in questi anni abbiamo fatto della dignità del lavoro, della dignità delle persone, di segnare anche con la nostra presenza questa sua visita pastorale che vorrei altrettanto ricordare che non solo è una visita pastorale che si compie al Parco di Monza con la Messa, ma che va in luoghi simbolici della città come il carcere di San Vittorio, come via Salomone, che sono due punti per la città di Milano emblematici dei livelli di sofferenza, dell'esclusione sociale, della necessità di ricostruire davvero una città solidale e attenta soprattutto a chi ha meno. Ancora a cronaca si apre un nuovo fronte nell'inchiesta della Procura di Milano su una presunta gestione opaca di finanziamenti agevolati concessi da Finlombarda a medie e piccole imprese. Stamattina la Guardia di Finanza di Varese su ordine dei PM Filippini e Pellicano ha acquisito negli uffici di Regione Lombardia e di Finlombarda documenti relativi anche ai rapporti tra l'amministrazione Lombarda e la Banca Europea degli Investimenti per la concessione nell'anno 2009 di una linea di credito di 200 milioni di euro a favore di Finlombarda al fine di aiutare l'imprenditoria del territorio. Nell'inchiesta perquisizioni sono state effettuate nei giorni scorsi, sono indagati per truffa tra gli altri Danilo Maiocchi, direttore generale dello sviluppo economico della Regione e l'ex DG di Finlombarda Marco Nicolai, mentre Mario Cesaroni, presidente di Confapi Milano, Confederazione della piccola e media industria privata, indagato per corruzione con Marco Cirillo, un consigliere della cassaforte del Pirellone ed ex sottosegretario all'ambiente del governo Letta. I primi lavoratori dello Human Technopole di Ropero troveranno posto a Palazzo Italia in attesa della costruzione dei nuovi edifici. Ad aprile partirà il bando internazionale per individuare chi dovrà progettare e costruire tutto il dopo esposizione universale, un affare da 2 miliardi di euro. Intanto il Comune, oltre ai 7 ex cali ferroviari, ha individuato 180 edifici dismessi che dovranno trovare acquirenti. Il sindaco Stala punta a coinvolgere imprenditori internazionali. I tempi stringono per il dopo Expo ad aprire la società. Re Expo darà il via al bando internazionale per reperire chi dovrà progettare il masterplan, realizzare le nuove strutture e gestirle per 99 anni. Il gruppo dei quattro pretendenti iniziali potrebbe ridursi a due. Vengono dati per sicuro il gruppo Coima dell'immobiliarista Manfredi Catella e una società australiana, ma ovviamente altri potrebbero aggiungersi anche all'ultimo minuto. A ottobre verrà proclamato il vincitore. Si tratta di un affare da 2 miliardi di euro, escludendo lo Human Technopole e il campus della statale. A proposito della cittadella delle scienze e tecnologie, disporrà di 30.000 metri quadrati di strutture e troveranno lavoro 1.500 tra ricercatori e tecnici. È stato annunciato che in attesa della realizzazione i primi lavoratori, circa 400 persone, troveranno posto a Palazzo Italia. Martedì prossimo verrà presentato un primo progetto proprio relativo allo Human Technopole. Intanto all'Università statale vengono individuati capillarmente gli edifici e gli spazi che dovranno traslocare da città studi a ropero. Ogni dipartimento ha avanzato richieste e suggerimenti. Intanto il sindaco Giuseppe Sala è sempre più intenzionato a dare la caccia a investitori internazionali che possano contribuire a portare lavoro e prospettive nel capoluogo lombardo. La riqualificazione dei sette scali ferroviari, l'Agenzia Europea del Farmaco che verrà via da Londra e 180 edifici dismessi sparsi sul territorio cittadino costituiscono un banco di prova per l'amministrazione municipale. Entro l'estate si punta a chiudere la trattativa con le ferrovie dello Stato per far partire dal 2018 la riqualificazione del 1.200.000 m2 degli ex scali, un progetto chiave nel futuro della città, i cui introiti serviranno anche per rendere più vivibili le periferie milanesi. Il Comune di Milano a questo proposito investirà 70.800.000 euro nel 2017 per la manutenzione straordinaria delle case popolari di sua proprietà nelle periferie della città. La cifra si aggiunge a quelle già stanziate nel 2015, 37.804.932 euro e nel 2016 oltre 51 milioni di euro per un totale complessivo di 160.354.000 euro. I dati sugli investimenti sono stati illustrati a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco Giuseppe Sala, l'assessore alla casa Gabriele Rabaiotti e il presidente DMM Davide Corritore. Tra gli interventi ci sono ad esempio quelli per il recupero sfitti, lavori strutturali, efficientamento energetico, messa in sicurezza delle facciate. Stamattina Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, è intervenuto a un incontro organizzato dall'Università Cattolica di Milano. Sentiamo una sintesi di quello che ha detto. È una donata sediziosa questa, perché stando ai canoni del politicamente corretto, qua si spacciano verità che sono più pericolose di alcune droghe. Io spero che i miei due figli crescano in una società libera, aperta, democratica, accogliente, ma con dei valori e dei principi. L'Unione Europea e Bruxelles odiano questi valori e questi principi. È un'unione che è la morte del sogno europeo. Questo è il mio punto di vista suffragato dai fatti e spero di poterlo dire senza che nessuno si impizzarrisca in Cattolica. Cambiamo argomento per dare pensioni maggiormente adeguate alla realtà futura. L'unica strada è quella dei fondi pensione che verranno incrementati adeguatamente, lo sostiene la Cis Lombardia, che ha riunito esperti che si sono confrontati. Le pensioni in futuro non saranno più sufficienti a dare un'esistenza serena a singoli e famiglie e dunque bisogna incrementare la previdenza complementare, unica vera soluzione al problema. Lo sostiene la Cis Lombardia che ha riunito politici ed esperti. Nella nostra regione il tasso medio di adesione ai fondi pensione integrativi è del 30%, decisamente troppo poco. A livello nazionale il tasso di adesione dei giovani si attesta soltanto al 16%. I cosiddetti fondi chiusi possono essere una soluzione perché vengono sottoposti a particolari norme di vigilanza e vengono considerati sicuri in prospettiva futura. In questi anni abbiamo seguito tutto un percorso di riforme che hanno ridotto il sistema di protezione pubblica, il primo pilastro. La previdenza complementare è assolutamente fondamentale per integrare e fare in modo che il futuro dei lavoratori al termine della propria attività lavorativa sia dignitoso e in condizioni di poter essere sostenuto dal punto di vista sociale. Parliamo dei nuovi fondi pensione, sono del 1997, quindi hanno attraversato questi anni che sono stati gli anni più difficili dal punto di vista finanziario. Pure i risultati di questi fondi pensione sono sempre stati superiori al trattamento di fine rapporto. Questi sono soprattutto dei fondi dove i soggetti, quindi gli iscritti e le parti sociali hanno avuto un ruolo rilevante e quindi la gestione che viene fatta è una gestione collettiva completamente diversa di quella delle istituzioni, dei prodotti. Rilanciare l'adesione della previdenza complementare, in particolare dei fondi chiusi, significa costruirsi un futuro di senerità per tutti i lavoratori e i lavoratrici. Domenica 19 marzo, dopo domani, largo a polisti e atleti e strade chiuse per le auto a Milano almeno in parte. Domenica infatti sarà il giorno della Stramilano che costringerà il Comune a chiudere le vie interessate dal passaggio dei corridori. Come da tradizione saranno tre le gare in programma, la Stramilano 10 km, la Stramilanina di 5 km e la Stramilano Half Marathon. I primi a partire alle 9 saranno i partecipanti della Stramilano 10 km, la corsa non competitiva dove corridori di ogni età e livello percorreranno 10 km attraversando il cuore della città fino all'arena civica Gianni Brera. Punto di partenza, come sempre, come vedete, sarà a Piazza Duomo. Alle 9 e mezzo partirà la Stramilanina dove i protagonisti saranno i più piccoli che si cimenteranno su una distanza di 5 km. Alle ore 11 in Piazza Castello sarà poi la volta della Stramilano Half Marathon. Con migliaia di atleti, professionisti e appassionati maratoneti si metteranno alla prova correndo a ritmo sferrato sulla classica distanza di 21 km e 97 metri, con arrivo per tutte e tre le competizioni all'Arena Civica di Milano, come vedete nelle immagini che vi stiamo proponendo. Siamo in chiusura. Vi ricordo, subito dopo la sigla e le previsioni del tempo, l'appuntamento con Nova Stadio Sprint e in studio Michele Nanati con gli ospiti parleranno ovviamente del prossimo turno di campionato e del sorteggio di Champions League che vede la Juventus opposta al Barcellona nel prossimo turno di questa competizione continentale. Alle 20 e 30 andrà in onda linea d'ombra con il faccia a faccia tra Carlo Fidanza, responsabile degli enti locali di Fratelli d'Italia e Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari Opportunità del Partito Democratico, ovviamente presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano. Alle 21 e 15 comincerà il talk show con le vostre telefonate da casa, parteciperanno Paolo Cova, deputato del Partito Democratico, Nicola Nicolosi, direzione nazionale CGL, Roberto Bernardelli, Lega Nord, indipendente, Fabio Rubini, giornalista di Libero, il tutto condotto dalla collega Adriana Santracroce. E' tutto, grazie della cortese, attenzione a tutti voi, l'augurio di una serena serata e di un buon fine settimana, arrivederci.